Mi sono innamorato di lei, già, ed è una storia un po' strana, perché l'anno scorso sono venuto in questo stesso B&B e ho trovato lei, e mi sono innamorato, ma purtroppo era già stata adottata dai proprietari, così quest'anno torno nello stesso B&B e ritrovo lei, e in pratica è la figlia di lei. Ho chiesto se potevo adottarla, e mi hanno detto di sì. A quel punto avevo 24 ore per capire come portarla a Milano. Cerca un trasportino, cerca un veterinario, vaccini fatti, libretto fatto, e ora tutto ok. Ok? Ma va, EasyJet non accetta gli animali. Ok, allora compro un biglietto con Ita e torno con Ita. Peccato che Ita atterra a Linate e io la macchina Malpensa. Compro il biglietto aereo per Lorenza e la faccio atterrare su Linate, con la gattina. Io intanto atterro a Malpensa, prendo la macchina, vado a prendere Lorenza a Linate, prendo anche la gatta, riporto Lorenza a casa, e finalmente posso tornare a casa mia con il mio nuovo amore. Ah, e ovviamente la Steffi non sapeva nulla. Ah! Ehi! Amore! Amore! Amore!